E' stato demolito oggi l'ex canile di Via della Cinta ad Arco. L'intervento fa parte del progetto generale di completamento della pista ciclabile sulla Sarca e serve per ricavare lo spazio dove farla passare, sulla sponda in destra orografica del fiume, in modo da unire il ponte ciclopedonale dell'ex oratorio alla nuova area verde ricavata nel 2008 dal sedime di Villa Manierheim. Da qui la ciclopedonale proseguirà a sbalzo sopra il Sarca, con una passerella che arriverà al ponte. I lavori di demolizione hanno interessato anche una minima parte della struttura ex macello, dove si è provveduto a fine maggio allo spostamento della cooperativa Casa Alloggio presso la nuova sede di Villa San Pietro a Caneve. La ditta esecutrice è la Trasporti e Scavi di Zampedri e Andrea di Riva del Garda. Grazie. Grazie.